Tu con noi avrai il calore che non hai trovato mai, l'amore, l'allegria e la gioventù, un caldo abbraccio che non scorderai mai più, le sensazioni liete le vivrai con noi, le pelli più pregiate di modelli che realizzano i tuoi sogni come tu li vuoi, la qualità, la convenienza troverai. Supermercato della Pelliceria, a Lodi in Corso Roma 24, aperto anche la domenica mattina, Lodi centro commerciale, a Piacenza via Legnano 3, a Brescia via Vittorio Veneto 3.